Nome. Paul Steven Haig. Numero vittime. 7. Modus operandi. Arma da fuoco, accoltellamento. Paul Steven Haig è nato il 5 settembre 1957 a Victoria, Australia. Fin da piccolo, anche se poco si sa della sua infanzia, diede dei campanelli d'allarme sulla sua instabilità mentale, che però nessuno prese mai seriamente. Era spesso scontroso, aggressivo, ribelle e violento. Già da minorenne, la sua fedina penale venne sporcata da una serie di piccole rapine, le quali lo portarono a fare brevi periodi di galera, fino al 1978. Erano appena passate due settimane dal suo rilascio, quando decise di rapinare ancora. Ma la mente di Haig era in forte trescesa, ed infatti avvenne la tragedia. Uccise a colpi d'arma da fuoco, Evelyn Adams, 58 anni, un'impiegata di un'agenzia della lotteria. Subito dopo si recò in una pizzeria, ed uccise a sangue freddo Bruno Cingolani, 45 anni, padre di famiglia, di origini italiane. La sua follia lo portò a diventare sempre più paranoico, giorno dopo giorno, fino a quando non decise di uccidere tutti quelli che riteneva sapessero, o almeno, sospettassero di lui per quel duplice omicidio. È il 1979. Era giunto il momento di porre fine a quelle incessanti paranoie. Uccise a colpi di arma da fuoco il suo socio di rapine, Wayne Keith Smith, 27 anni, e l'ex fidanzata del suo socio, Shale Gardner, 31 anni, mentre si trovavano in auto. Nel sedile posteriore era seduto Danny Mitchell, il loro figlioletto di 10 anni, scioccato e in lacrime. Haig, si sedette a fianco a lui, consolandolo, poi con una freddezza allucinante, gli sparò tre colpi di pistola alla testa. Più folle che mai, subito dopo, corse dalla sua ex fidanzata, Lisa Brayrly, di 19 anni. Portò con lui un uomo, non si sa come lo avesse conosciuto, se già lo conosceva, o se lo costrinse sotto minaccia, e li fece violentare Lisa. Lo scopo di aver fatto violentare la sua ex ragazza era quello di depistare le indagini. Subito dopo la violenza sessuale da parte dello sconosciuto, Haig l'avrebbe uccisa, e il DNA dello sperma avrebbe portato la polizia ad arrestare lo stupratore. Fu così che il soggetto ignoto stuprò Lisa. Poi entrò in scena Haig, che con una furia inarrestabile, la pugnalò ben 157 volte. Un numero che scioccò la polizia quando vide il corpo senza vita della povera ragazza. Ma il piano non funzionò. Il serial killer era già nell'occhio della polizia, e fu arrestato pochi giorni dopo per tutti quei brutali omicidi. Neanche in carcere la sua sete di sangue si placò. È il 1991 quando uccise Donald George Ateli, un molestatore sessuale. Lo uccise nella sua cella, facendogli violenza psicologica, e portandolo ad avvolgersi un cappio intorno al collo. Donald stava in piedi su un armadietto, incerto se lasciarsi andare o no, ma ci pensò a Haig, dando un calcio all'armadietto, facendo scivolare Donald, il quale rimase impiccato. Il 19 aprile 2011, in un'udienza davanti ai giudici, si dichiarò infermo di mente nel tentativo di ricevere l'infermità mentale, e quindi una condanna più leggera. Ma gli psichiatri allarmarono tutti. Diagnosticarono Haig come uno psicopatico, incapace di provare sentimenti, era un bugiardo ed un egoista. Avvisarono, inoltre, che se anche questa volta fosse stato rilasciato, il pericolo sarebbe stato alto. La sentenza terminò con sei condanne all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale.